Eccoli i volti del nuovo progetto Molfettese, tutti presenti alla prima conferenza stampa della stagione. C'era il presidente Saverio Bufi, c'erano al suo fianco Onofrio De Gennaro, Angelo Messina, Vito Totorizzo e Giuseppe Traversa. Sono davvero orgoglioso di avere dei soci molto importanti e delle aziende importanti che hanno deciso di investire su un'idea di calcio e di aziende e di impresa che avevo già strutturato lo scorso anno e che sono tifosi appassionati della città e vogliono utilizzare lo strumento Molfetta Calcio per fare promozione sportiva e cultura sportiva, ma anche per vincere e per fare anche campionati importanti. Il Molfetta vuole vincere e ha l'ambizione, in un futuro neanche troppo lontano, di puntare al calcio professionistico senza però compiere passi affrattati. Per quello che abbiamo in mente di costruire non bastano pochi mesi o pochi giorni, quindi ci vorrà del tempo, però comunque già da quest'anno abbiamo in animo di fare una squadra competitiva che possa comunque giocarsela con tutti con un budget comunque più importante dell'anno scorso. Poi il vero obiettivo è quello di costruire un'impresa, una società che abbia un settore giovanile, uno stadio e delle relazioni forti con il territorio, anche che abbia un professionista. Che ci metta un anno o due, lo capiremo, vivendo la categoria che come sapete è molto difficile. Nelle intenzioni della dirigenza c'è la volontà di alessere una rosa competitiva e con nomi importanti per la categoria. Il difensore Danilo Colella e il centrocampista Stefano Manzo, entrambi ex Bitonto, sembrano molto vicini. Trattative avviate anche con due protagonisti del Cerignola che ha vinto l'ultimo giro in H di Serie D. Il centrocampista offensivo Lorenzo Longo e l'esterno d'attacco Nicola Loiodice, che piacciono però anche al Barletta. Siamo ai dettagli, Nicola Loiodice è un po' più difficile ma siamo interessati anche a lui perché le trattative le abbiamo fatte, abbiamo parlato con il procuratore, con il giocatore. Per una portante penso che siano giocatori che possano fare a caso nostro. Poi il mercato ha delle logiche che comunque a volte sfungono, però sicuramente abbiamo trattative avviate, questo lo posso confermare. Obiettivo? Un posto, fra le prime cinque la concorrenza sarà spietata ma in Molfetta non gioca a nascondino. Sicuramente dovranno avere a che fare con noi, poi il girone H è davvero pazzesco. Perché poi nel periodo di maggio, giugno un po' tutti quanti si nascondono, ma poi dopo vengono fuori vere e proprie corazzate, impegni economici, sociali, organizzativi della città, perché comunque è un bel campionato ed è sempre più affascinante. Difficile da vincere, ma bello da vivere.